signori buongiorno oggi vi faccio vedere la macchina che salda l'elastico sul tnt questa è una macchina a ultrasuoni che ci permette di saldare qualsiasi tipo di elastico su qualsiasi tipo di mascherina in questo caso utilizziamo un elastico normalissimo da 6 vi faccio vedere come funziona primo lato andiamo a girare la mascherina dall'altra parte in maniera molto molto veloce come potete vedere è rapidissima perché questa macchina funziona con un sistema ad ultrasuoni e in maniera molto veloce siamo andati a saldare l'elastico sulla mascherina quindi senza avere bisogno di effettuare una cucitura per fissare l'elastico in maniera molto tenace andiamo a sistemare possiamo tirare può addirittura strapparsi l'elastico strappare tnt ma non si strappa la cucitura perché ci salda in maniera molto energica l'elastico alla mascherina